ho fatto questa riflessione sul sulla cgi che per cercare di capire come mai la cgi disturba vabbè chiaramente disturba di più chi viene da dal vecchio cinema senza cgi perché abituato no avere avere un effetto diverso quindi un po è sempre la questione del da che cosa sono abituato cosa no però ho fatto una riflessione anche vedendo in questi in questo periodo vecchi film oppure nuovi film come quello di phil tippet quello tutto in step motion che quindi non ha un filo di cgi è tutto ricreato e pensavo anche a openheimer che non ha cgi perché c'era quella volontà lì allora ho capito una cosa che il film che ricrea l'astronave nello spa ecco ci ho pensato ancora ieri che guardavo a ieri o l'altro ieri che guardavo aliens il secondo capitolo della saga di alien di james cameron con appunto gli effetti ancora ci sono delle delle cose modellini nello spazio che funzionano da dio funzionano benissimo cioè non non lo so ti danno un'idea di di materia che la cgi non ti dà perché la cgi non ti dà quelli quella quel sesso di materia perché o non sempre te lo da quando quando tu è fatta veramente bene la cgi e non ti accorgi che si hai quindi cadiamo nell'inganno allora la cosa può funzionare in qualche maniera però appunto dipende in che punti ma quando noi sappiamo che si già e oppure peggio ancora questa si già e non è perfetta anche basta solo un piccolo elemento un'ombra un effetto di luce che non tocca bene uno un movimento che che non è perfetto allora noi ci rendiamo conto che quella scena non solo è un cgi ma non esiste non ha una fisicità nello spazio non è reale non è reale fondamentalmente cioè è reale come realtà appunto in reale cioè è reale nel in una realtà virtuale no la cgi è una realtà non reale cioè in un luogo virtuale è una serie di cordi coordinate di puntini in uno spazio coordinate è una serie di numeri fondamentalmente questa sensazione di irreal di reale di impalpabilità disturba secondo me soprattutto chi viene dalla vecchia generazione che è abituato alla fisicità dell'effetto la fisicità dell'effetto no per cui io dico sempre ma perché cioè per farlo così male in post produzione magari con after effort il sangue perché non spruzzi un po di ketchup e basta cioè nel senso è vero il ketchup non è proprio simile a sangue però è molto più simile di quella schifezza che hai fatto tu in post produzione quindi se penso ad aria argento che ha un sangue che praticamente è vernice rossa accesissima ma comunque alla fine il risultato è che il film funziona perché quel sangue per quanto sia vernice rossa è una è un liquido vero e proprio quindi magari è toppato il colore e da un effetto particolare surrealista quasi no questo sangue di dare argento però è comunque un vero colore un vero un vero liquido che tocca la materia e ci scorre sopra si attacca quando schizza è qualcosa di reale quindi anche le astronavi nei film di fantascienza di una volta se pensate a quelli top no quelli belli come alien eccetera ci hanno un impatto sullo spettatore forte perché senti che quella cosa lì è reale in uno spazio vuoto poi c'è un'illusione cioè ti fanno credere che sia grossa invece piccolo se penso anche i modellini di ambientazione di dei batman di tim barton e appunto anche del corvo c'è c'è una cosa simile ecco quello che che sento per cui per me è difficile mettermi nella testa di uno invece che è cresciuto e con un cinema fatto solo di cgi per cui magari uno di vent'anni che magari non ha guardato tutti i vecchi film e quindi ha una cultura più sul cinema recente ecco quello è una cosa che mi incuriosisce cioè essere nella testa di uno così e sentire cosa prova perché io da persona anziana che è abituato al vecchio cinema quello che sento è proprio questo cioè posso far finta che l'astronave di un modellino di un'astronave in un piccolo set sia una vera astronave e lo sento che non so che non è vera ma sento quella rappresentazione come reale perché quell'astronave lì è reale è finta è piccola è un modellino ma è reale non è qualcosa di creato digitalmente mentre invece se vedo qualcosa di creato digitalmente che può avere un difetto e quindi farmi cascadere chiamiamola la la sospensione credulità ma poi non è proprio quello però si fa cadere la sospensione dell'incredulità a quel punto tutto diventa finto ma realmente finto cioè nel senso io non vi leggo più perché ho la chat che continua a andare non so se non state scrivendo un cazzo è probabilmente così cerco di farvi capire che se io vedo un effetto manuale che non è realistico e quindi un po dico ah guarda ho capito come l'hanno fatto si vede come hanno fatto però comunque è reale ciò che vedo mentre se io vedo qualcosa fatto in cgi e scopro che è in cgi mi rendo conto che è tutto finto cioè che è tutto impalpabile che non è materia è tutto teoria è tutto astratto perché appunto è un'immagine virtuale è un'immagine digitale creata è vuota è vuota di materia fisica questo è il senso che io provo non accade se l'effetto cgi è talmente perfetto che mi passa sotto gli occhi senza che io me ne accorga allo stesso modo però se io vedo un drago nello spazio che vola anche se è fatto benissimo cosa che non mi è quasi mai capitata di vedere qualcosa di assurdo qualcosa che sia ma anche le astronavi che oggi vedo fatte in cgi nello spazio non mi piacciono come mi piacevano quelle di alien non mi danno quel senso di vuoto intorno di di un oggetto sospeso nel nel vuoto però comunque se sono fatte stra bene non ci penso e funziona però spesso purtroppo nel nella cgi anche oggi nel 24 si vedono questi difetti oppure noi siamo diventati molto bravi visivamente ad accorgercene la cgi può essere fa ben fatta e mimetizzarsi nell'immagine come nell'ultimo film del pianeta delle scimmie può essere ovunque sembrare dozzinale come le ultime marvelate ad esempio ad un effetto fisico concedi un difetto alla cgi no vero non glielo concedi perché perché ripeto non glielo concedi perché parti da un presupposto diverso cioè io faccio una cosa fisica che ha qualche difetto ma è fisica e affascina lo stesso cioè mi affascina comunque una scenografia di melie io lo vedo che non è un trompe cioè non è una reale prospettiva ma è un trompe è un inganno però è qualcosa di reale di fisico di artistico che io quasi ammiro di più è qualcosa che posso apprezzare ma la cgi che invece parte dal presupposto di ingannarti totalmente e infatti se tu fai una cgi volutamente staccata dal contesto quindi fai qualcosa di artistico è apprezzabilissimo ma siccome parte dal presupposto che si deve confondere quando poi non si confonde tu perdi un po la fascinazione di quella scena nello specifico la cgi che non ti accorgi che esiste è quella delle banalità cioè tu guardi la scena di un film in una casa dove c'è una sedia quella sedia non è reale è stata messa lì dopo perché magari era un'esigenza scenografica che non è stata non è stata fatta nella scena prima eccetera eccetera quel tipo di cgi è una cgi molto figa secondo me che io apprezzo molto perché è veramente qualcosa che molto utile per dice per i registi che possono andare a intervenire su su delle cose che non hanno inserito per svariate ragioni oppure la combinazione tra effetto reale ed effetto cgi che a volte può essere molto bella questa combinazione per cui riesce a fare delle delle cose che una volta non si facevano soprattutto nello splatter eccetera anche blade runner che non utilizzò tanta cgi non è invecchiato come film per esempio forse l'effetto fisico si dà più valore artigianale esatto è come se è come se lo apprezzassi come parte di un processo artistico come nel teatro no tu vedi una delle case delle scenografie con delle case che sai che non non c'è la casa dentro le prospettive non sono perfette sono sono adattate sono quasi espressioniste le scenografie in alcuni spettacoli teatrali non è che sono realistiche cioè tendono a carica a caricare le architetture per rendere più espressive più più emozionanti no più se una se una scenografia di un teatro deve essere lugubre magari vengono dipinte delle ombre che non sono reali ma che vengono aggiunte questo accade anche nella notte dei morti viventi accade anche nel gabinetto del dottor carigari cioè vado oltre la realtà vado oltre il realismo e aggiungo delle ombre che danno che danno ispirano nella mente dello spettatore delle emozioni che sono oltre la realtà e io quando vedo una scenografia la apprezzo per quello se vedo un cavallo a teatro uno che va su un cavallo finto scusate mi sto congelando perché sono un deficiente mi sono messo l'aria condizionata fino a farmi venire il raffreddore praticamente se vedo uno che in uno spettacolo teatrale arriva con un cavallo finto tutto dipinto di legno eccetera lo apprezzo no quindi è lo stesso penso lo apprezzo come oggetto creato per creare qualcosa mentre appunto questo accade anche magari con i modellini di star wars di di alien che ne vanno nello spazio poi magari in post produzione ci aggiungono il laser sparato ed è sono veramente belli cioè sono qualcosa di che tu sai che è finto ma che è meraviglioso da guardare mentre la cgi cazzo ha questo problema non è un discorso che va sicuramente bisogna generalizzare troppo perché ci sono dei casi stupendi di utilizzo della cgi però ecco quello che io volevo analizzare la nostra percezione perché siamo così intransigenti un po secondo me perché appunto viene fatta un po' a culo e invece l'occhio del pubblico è molto più allenato di una volta quindi è anche una persona non esperta di cilia ma si rende conto quando una cgi non è fatta bene perché soprattutto ecco soprattutto oggi pensate a quanto il nostro cervello quando guarda un tiktok quando guarda un post un reel un video su youtube fa attenzione che non sia un deep fake che non sia un una messa in scena finta questo tipo di atteggiamento è recente se non parliamo del cinema parliamo di scene reali no io mi riprendo al mercato con la faccia di tom cruise per esempio voi vent'anni fa avreste pensato per molto tempo che quello era veramente tom cruise ve lo sareste chiesto alla terza visione del video oggi ve ne accorgete dopo tre secondi dopo un secondo perché perché il vostro cervello vi dice subito attenzione poi devi dubitare di questa immagine devi dubitare subito e analizzare subito se vedi dei difetti è attaccata bene alla faccia è proprio lui l'età di tom cruise in questa deep fake è corrispondente all'età di tom cruise oppure è una faccia di tom cruise di vent'anni fa di dieci anni fa e inizia a farti queste domande ti inizia per esempio c'è uno che streama videogiochi con la faccia di kino rives un italiano che ha il fisico completamente diverso da kino rives il tuo cervello lo vede di prima al primo colpo non vede neanche chiano rives vede uno con una maschera perché il fisico è talmente minuto rispetto a kino rives che comunque penso un metro almeno un metro ottanta spalle larghe eccetera che dici no non è lui ma è uno che ci ha appiccicata la quindi il cervello fa subito tutti dei ragioni quindi siamo una secondo me siamo in un'epoca in cui molte persone sono molto allenate con l'occhio e la cgi che fanno per quanto bella rispetto al passato è imprecisa e non illude non sempre illude oppure se siamo nello spazio e vediamo qualcosa che nello spazio non può essere diretto registrato per un film noi di partenza sappiamo che quella è cgi e questo ci rende scettici ci ci rende critici in qualche maniera questa è la cosa che a cui sto pensando non mi sono ancora dato delle risposte totalmente definitive forse non me le darò mai perché ho qualcosa che ha sempre un miglioramento un cambiamento e ora con la con l'intelligenza artificiale le immagini per esempio noi siamo abituati alla cgi che è 3d all'interno di un filmato reale ma l'intelligenza artificiale fa qualcosa di diverso ma è qualcosa che viene considerato in qualche maniera il sostituto del 3d perché quando quando la l'intelligenza artificiale diventa sempre più precisa e quindi riesce a dare senso a tutto alle architetture all'anatomia del per esempio sapete che ancora con le mani fa fatica c'è delle cose che non ancora non capisce bene quando sarà risolto tutto questo tu non avrai più bisogno di fare il 3d di un mostro dentro una scena girata realmente tu potrai dire con chiaramente devi essere capace perché non è facile all'intelligenza artificiale di creare un vostro con queste caratteristiche integrato con quella fotografia e a quel punto sarà più veloce più e più brava di un 3d artist io per esempio un amico che fa a livello di 3d si occupa solo delle luci e lavora per i grossi film americani e stiamo parlando di cose enormi e lui si occupa solo del lighting diciamo cioè di come le luci colpiscono le cose all'interno delle scene in cgi ecco un giorno l'intelligenza artificiale lo farà meglio dell'essere umano o comunque lo farà più velocemente e allora lì sarà un altro paio di maniche ci saremo di nuovo a parlare di che effetto ci fa nel cinema un elemento inserito con intelligenza artificiale boh è veramente un periodo molto strano di passaggio inquietante io sono più inquietato che affascinato mentre mentre negli anni 90 ero molto affascinato dalla tecnologia e dalla piega che poteva portare ora che ci sono dentro con tutti e due i piedi sono molto più spaventato che affascinato però non posso neanche bloccarla sta cosa quindi il mio intento è cercare di conoscerla al meglio